Il tema di questa mia introduzione in attesa delle vostre domande è la politica economica del governo che detta così sembrerebbe l'elenco di una serie di misure. Menzionerò alcune misure ma cercherò soprattutto di spiegare qual è la logica complessiva della politica del governo e della strategia del governo. Ci sono un po' di slides, alcune piuttosto difficili da leggere ma questo fa parte della scienza triste che io userò solo come background, come informazione in qualche caso che danno l'idea di dove siamo partiti. Per capire la strategia del governo di questi anni e degli anni successivi bisogna capire da dove veniamo, questo vale evidentemente per l'economia, per la politica. L'analisi storica come possibilità di guardare al futuro è indispensabile. L'economia è una scienza triste ma è un'economia sociale, quindi non può fare a meno di confrontarsi con le tematiche sociali e politiche in modo intrinseco. Questo shock negativo che è la conseguenza di una crisi molto profonda che ha colpito l'Europa, la versione europea della grande crisi finanziaria che ha convolto molti paesi della zona euro, la Grecia naturalmente, ma anche l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, ha col volto anche l'Italia.